e con questa bella bellissima canzone di Argar Funkle so much in love sono riuscito ad evitare la doccia con l'acqua in offerta devo dire che ha un sapore diverso che mi aveva promesso Giuseppe Castiglia qualora non l'avessi suonata in chiusura di trasmissione in zona Cesarini come dicono quelli bravi abbiamo qualcuno in onda buongiorno in zona Cesarini Jonathan vabbè no è un modo di dire come siamo combinati tutto 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 a posto come mai che è successo è una canzone bellissima perché scusa tipo naturalmente è un tipo di automobili la famosa Fiat Tipo la Tipo al parcheggio abbiamo capito bene la Tipo al carpeggio ma che cosa al tabacchino compro le caramelle club sperlare tutto bene oggi una bella giornata abbiamo giocato nuovamente con Castiglia nomi cose città abbiamo scelto penso un po' la lettera G e come infatti tanti hanno scritto Jonathan e a tal proposito volevo farti proprio questa domanda se controlli sulla carta d'identità il tuo nome scritto con la G o con la J ma chi c'hai scattinato il pinta vero? ma chi non ha fatto il pinta vero? ma allora c'è il pinta vero c'è il pinta vero c'è il pinta vero ma secondo te uno come il mio cammina col documento da preso no ti conoscono tutti effettivamente ma stessi stanno no un danno è che si uniferma la polizia medio che ci dici che non c'è il documento no? tipico 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 ma allora ci ci ho un po' consumato il pinta vero vabbè vabbè insomma non è che comunque male personaggi KG Godrake male ci ho un po' bello ma personaggio dei cartoni animati sicuramente non personaggio storico comunque male ti posso convidare una cosa si vai vai male ma chi appare quelli camastri nooo male non li stiamo frequentando più nooo che delusione che delusione vale sai chi scoprì eh che è successo e che è successo eh che è successo ahah 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 nooo nooo non doveva farlo nooo no 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 non no no questo ecco siamo troppi besti ecco siamo troppi besti ecco mi associo il rossazzurro, eh vabbè, sei un cioppupessi, ma come si fa, non si può, non si può, non si può, ma no, ma manco Pippo Franco, ma no, 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 non si fa, non si fa, e no soprattutto perché ha tradito un'amicizia e una fede così forte come quella legata, mi spiace ma mi associo il che, siamo un cioppupessi, siamo un rossazzurri, siamo un cioppupessi, non la vuoi cantare più questa canzone? Ecco, bravo, indegno, non ti vogliamo più tra noi, siamo un rossazzurri, siamo un cioppupessi, siamo un rossazzurri, cioppupessi, siamo un rossazzurri, cioppupessi, all'iccamastice non è uno di noi, all'iccamastice si è ribattuto, bene, bene, oggi mi togli d'accordo, non si fanno queste cose soprattutto perché c'è una donna nel mezzo, ma non per la donna, ma perché gli amici non si tradiscono mai in nessun caso, e soprattutto la squadra del cuore. Ma che c'entra, va bene, va bene, va bene, giustamente mi pare magari giusto, ma non pare il paio vendus, se stai scegliere una squadra c'è caggei, scegliere una giamaica, siamo unito, per esempio, per esempio, se sei ascoltato, sei ribattuto, siamo un cioppupessi, siamo un rossazzurri, siamo un cioppupessi, siamo un rossazzurri, siamo un cioppupessi, ma pare ci metti ragazzurri più in mila, va bene, ok, ti dedico, Gioanna, oh, pare, da poccieri una cosa, dimmi, siamo un rossazzurri, siamo un cioppupessi, A presto!